ehi la gente questa è la valigia il trolley con dentro i libri e anche la sua nata borsa con dentro i libri vi lascio al brevissimo blog non fate caso al caos dietro di me e noi ci vediamo e 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.